Sindacato e territorio, lavoratori, cittadini e persone insieme nel terzo millennio. Sindacato e territorio, lavoratori, cittadini e persone insieme nel terzo millennio. Questo è il tema del sesto congresso territoriale UILP-FPL Siracusa che si è tenuto stamattina all'auditorium del Museo Paolo Orsi. La UIL è fortemente convinta che questo tema debba rappresentare l'occasione per aumentare la base di consenso verso le fondamentali tematiche di cui essa è veicola per ampliare il coinvolgimento di tutti, a cominciare dalle lavoratrici e dai lavoratori fino ad arrivare alle giovani generazioni per ribadire l'importanza di questi temi in un momento di crisi politica. Per cercare di pianificare insieme un futuro diverso serve una volontà politica comune che consenta di procedere tutti nella stessa direzione, svolgendo così un'azione di vigilanza e di costante partecipazione perché ci siano diritti realmente garantiti e protetti per ognuno. Il rapporto è sempre più stretto, c'è sempre più bisogno di sindacato, ci accorgiamo giorno dopo giorno che pur avendo una legislazione che garantisce alcuni diritti, se il sindacato non è puntuale e presente sul posto di lavoro per fare sì che questi diritti vengano attuati per i lavoratori è sempre più difficile riuscire ad andare avanti. Oggi si svolge il congresso provinciale di Siracusa della Will FPL si fa il punto della situazione ma più che altro si guarda all'indietro a questi ultimi 4 anni come l'organizzazione ha vissuto nel territorio, come si è comportata, i grandi risultati che ha raggiunto e come si proietta per il prossimo futuro. Sono sempre queste occasioni, le occasioni dove ci si riunisce e ci si guarda e si guarda al passato passando attraverso il presente e proiettandosi attraverso il futuro. Credo che l'FPL di Siracusa abbia dimostrato di avere una continuità col passato ma di essere veramente avanti nei tempi. Abbiamo avuto una grandissima risposta con le elezioni dell'RSU ottimi risultati in tutta la Sicilia ma soprattutto qui a Siracusa. Vista la situazione di un Covid che ancora è dentro gli uffici come in tutti i posti tanti dipendenti erano a casa malati, siamo riusciti ad avere un grandissimo risultato e questo sicuramente raccogliamo quello che abbiamo seminato anche in piena pandemia. Va bene, grazie mille. Devo dire che mai come oggi anche per il Sud abbiamo queste risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un'occasione importante che non va sprecata. Abbiamo chiesto al Governo di prevedere una serie di confronti a tutti i livelli, dal livello nazionale, al livello regionale, al livello territoriale. Perché come diceva Papa Francesco, il peggio della pandemia è quello di sprecare le opportunità che questa comunque ci comporta, perché abbiamo queste risorse che arrivano dall'Europa e quindi dobbiamo cercare con queste di rilanciare il Paese, ridurre il divario che c'è ancora tra Nord e Sud e soprattutto rimettere al centro la persona e i suoi bisogni. E quindi noi che facciamo sindacato nella sanità e nell'autonomia locale siamo molto interessati a ampliare il perimetro pubblico che in questi anni è stato completamente smantellato. Penso solo alle risorse perse, ad esempio in sanità, dove in 10-15 anni abbiamo perso 37 miliardi certificati dal Governo e non certo da noi. Quindi c'è molto da fare.